Tra una scampanellata alle 8 di domenica mattina dei testimoni di Geova e una alle 8 di sera per dolcetto scherzetto ci passa un no grazie. Se per i primi alle volte si sono visti affissi accanto ai campanelli eloquenti adesivi in cui si rendevano edotti gli accoppiati distributori della torre di guardia, che la casa era la dimora di un fervente credente della Santa Romana Chiesa cattolica e apostolica indi per cui procedere allo scampanellio era del tutto inutile. Per i più recenti secondi in un paese dell'entroterra pesarese Osteria Nuova si tenta di disincentivare i questuanti di dolcetti dal campanello facile da proferire la tanto conosciuta formula dolcetto scherzetto con l'affissione sulla porta di un santino da parte di tutti i credenti su invito della locale parrocchia di San Giovanni Bosco. La scelta del santino è libera naturalmente sta alla personale devozione degli abitanti decidere a chi affidare il silente monito a non disturbare da domani fino al 2 novembre compreso. In un articolo comparso nell'ultimo numero del notiziario parrocchiale dal titolo Halloween No Grazie si legge a riguardo dei santi definiti amici speciali di Dio. Dio non è esclusiva solo di alcuni ma lo è di ciascuno di noi che con il battesimo abbiamo iniziato lo stesso cammino e di seguito l'invito a scaricare l'immagine del santo preferito ed appenderla sull'uscio di casa. L'iniziativa va avanti da diversi anni e si accompagna con riflessioni spirituali molto seri su tutto il territorio e le iniziative sono tante con valenze dedicate come quella del comune di Terra Roveresche e del santuario di San Giuseppe in Spicello che invita tutti a riscoprire la bellezza delle tradizioni cristiane festeggiando tutti insieme i santi attraverso una sveglia di preghiera il 31 di ottobre si inizierà alle 21.30 con una proiezione e la testimonianza di un ex satanista ritornato alla fede cattolica e si proseguirà poi con la preghiera.